Ciao, benvenuti a tutti su Gold Unicorn Art. Carissimi e carissime, come state? Allora, andiamo a fare la nostra stesa sull'amore. Quindi pensate a qualcuno che vorreste incontrare, oppure qualcuno che conoscete già. Allora, lasciatevi andare, concentratevi e incominciamo con le nostre sibille che ci dicono già bene la situazione. Qui c'è qualcuno che ti pensa in modo chiaro. Questa proprio corrisponde alla donna di cuori, diciamo, nelle carte francesi. Questa sei proprio tu. Ti vede come una splendida persona, donna o uomo che sia. Io le faccio al femminile, lo sapete. E ti vede anche come quasi un po' sia sedutrice che tentatrice. Ha la speranza questa persona di fare qualcosa con te, di incontrarti, di vederti. Quindi qui potrebbe benissimo essere anche un corteggiatore. Però, se invece è qualcuno che conosci, ha proprio la speranza di vederti e di fare qualcosa anche di stravagante. Vedete com'è fisso il pensiero di questa persona? È una persona, però, visto già le carte che sono uscite, che vuole fare qualcosa di stravagante, perché lui stesso è stravagante oppure originale. Qui il pensiero geniale anche significa questa carta, ma potrebbe anche essere che qualcuno sta escogitando qualcosa nei tuoi confronti, qualcosa che non ti aspetti, qualcosa di geniale, diciamo, anche. Naturalmente tu non sai nulla di tutto questo pensiero che ha questa persona, perché il gatto rappresenta anche una verità nascosta, diciamo, quindi qualcosa che non ti vuole dire. Ti devo dire anche che questa persona ha paura anche che tu incontri qualcun altro, perché è un po' gelosa, quindi ha paura di perderti. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Mischiamole ancora un po' e vediamo che cosa ci dicono ancora. Ah, senz'altro tu, ti ripeto, non sai nulla, perché apparentemente può anche essere che questa persona, se ti vede, fa finta di niente, oppure non ti sta cercando in questo momento, perché viene il nemico, però comunque, secondo me, è proprio una persona piena di fantasia, ricca di fantasia, perché qui viene l'artista insieme al pensiero geniale, quindi secondo me, per molti di voi, ci sarà stato magari un allontanamento, oppure è un corteggiatore che sta nascosto nell'ombra, perché vuole fare qualcosa, secondo me, un po' di eclatante. E' una persona comunque, tutto sommato, è una bella persona, magari non ha avuto dei comportamenti buoni, però qui vuole sostenere te, è comunque un re di cuori questo, che si abbina benissimo con la regina di cuori, delle carte francesi che sono qui dentro le Sibille, quindi io le leggo sia le Sibille che le carte francesi, che amo molto, e quindi questa persona che ha queste particolarità, che abbiamo appena detto, quindi è una persona che pensa, sempre creativa, che ha sempre cose in mente, può essere anche una persona che fa un lavoro creativo, oppure dell'ingegno anche, oppure come hobby, però qui si vede che secondo questa persona deve fare qualcosa di originale, di particolare, perché ti vuole in qualche modo stupire o scioccare, perché fa questo, vediamo un po' perché questa persona ti vuole, vediamo un po' con queste carte, perché ti vuole così stupire, scioccare, io taglio alle volte senza dire sempre il taglio, ma è sottinteso, mi sto dando da fare per diventare il mio miglior amico, una persona con cui sono felicissimo di stare, quindi questa persona probabilmente si è allontanata un po' dal mondo ultimamente, perché il suo nemico era un po' se stesso, in sostanza dice questo, perché noi stiamo chiedendo perché ti vuole fare qualcosa, quindi ha imparato ad amarsi incondizionatamente ed accettare le cose come sono, per esempio se voi siete lontani per qualche ragione, però ha capito che se ama se stesso potreste amarvi anche voi, quindi è una persona che ha una speranza nei vostri confronti, magari a qualcuno di voi è successo qualcosa di non tanto bello, e questa persona cerca di rimediare in qualche modo, cerca di rimediare, vediamo un po' cosa può essere successo, perché questa persona a un certo punto fa questo ragionamento giustissimo, cioè se mi amo, vengo da te, ecco perché pensa tanto, probabilmente ti vuole dare una dimostrazione d'amore, ma perché pensa così tanto, perché hai dubbi che tu possa non essere disponibile, tu sei rappresentata qui come vediamo, la sua donna, la sua donna del cuore, la donna che vuole veramente, però ha qualche dubbio, anzi sente che deve fare presto in un certo senso, e che deve avere una trovata geniale, perché tu potresti non essere disponibile, oppure potresti, visto che è anche geloso, aver incontrato un'altra persona, oppure magari stai scegliendo da diversi corteggiatori, se sei single. Beh, diciamo che non ti ha mai voluto dire questo, questa persona, non ti ha mai voluto dire che non è così forte emotivamente, non è così emotivamente centrato, diciamo che è una persona che molto facilmente perde un po' le staffe nella relazione, relazione, quindi ha un carattere, nonostante sia geniale di pensiero, ha un carattere un po' impulsivo, ecco perché ha sentito il bisogno di calmarsi, e di dire a se stesso, io sono il mio migliore amico, perché sa che in fondo i suoi comportamenti lo hanno reso più nemico a se stesso, quindi adesso questa persona agisce con la volontà, questa è la carta della volontà, agisce con la volontà perché dice, io voglio conquistarti o riconquistarti, se ti conosce già, con tutta la mia forza, perché sei veramente l'unica persona che mi interessa, quindi vediamo un po' se adesso è pronto, magari prima non lo era, vediamo se questa persona è pronta ad amarti veramente, mi viene spontaneo chiederlo, visto le carte che sono uscite fino adesso, una persona che capisce che il suo carattere forse vi ha allontanato, oppure che ha allontanato le partner precedenti, però è come se dicesse, ma io sei tu quella che voglio, se anche magari fossi andato, se fossi allontanato, per esempio se lo conosci, se fossi allontanato per qualche altra partner, secondo me ha cambiato idea, ha capito che sei tu quella che vuole veramente, infatti sente proprio che in qualche modo vuole comunicare con te, questa persona. voglio andare ancora più a fondo, sempre su questa situazione, perché questa persona si fa tanti problemi tutto sommato, perché deve pensare così tanto delle cose appunto un po' geniali, delle cose particolari, perché deve studiare così tanto un piano questa persona, mi viene da chiedere questo. Va bene, ha fatto un lavoro, un bel lavoro, ha capito che il suo carattere non gli ha giovato nelle sue relazioni, però perché ha così paura, diciamo, di perderti? Vediamo. Beh, intanto si è reso conto che agiva molto di personalità, perché qui abbiamo il settimo chakra che rappresenta l'unione col tutto, quindi questa persona è come se dicesse io, non mi fidavo tutto sommato della vita, dell'universo, insomma molto nel pensiero, come abbiamo visto, forse anche molto razionale, non aveva questo collegamento, probabilmente qualcuno o qualcosa che ha letto magari lo ha aiutato, oppure tu stessa, se lo conosci già, gli hai fatto capire che non si può ragionare sempre con la personalità, essere impulsivi, fare un po' quello che ti arriva, bisogna anche sapersi controllare, no? Quindi qui è come se questa volontà, perché qui avevamo la volontà, fosse una volontà spirituale, diciamo, cioè che gli arriva dalle sue profondità, dalle sue viscere, ecco, quindi perché questa persona a un certo punto ha così paura di perderti? Perché è come se pensasse che tu sei un po' un passo avanti nella consapevolezza, e che quindi si sente un pochino, diciamo, in difetto, ha paura che tu dici, se non sei consapevole e agisci solo con la tua personalità, col tuo ego, col tuo carattere, forse non fai per me. Ecco, abbiamo scoperto il perché, ma mettiamoci un'altra carta ancora. Beh, senz'altro ho capito di essere stato pesante, nelle sue relazioni, se fossi single, sono ragionamenti che fa a se stesso, se invece è la tua persona specifica, qui è come se dicesse, sì, effettivamente agivo sempre di personalità, no? Invece adesso io voglio leggerezza, voglio sentire proprio che scorre la leggerezza dentro di me, ma anche fra di noi. Insomma, questa è una persona pentita, mi viene proprio da dire, è una persona pentita che non si accettava, ma non si amava, e di conseguenza trattava te in modo limitato, diciamo. È come se avesse detto, il mio amore era limitato dalla mia personalità, ora invece capisco che l'amore deve essere quello vero, solo illimitato, cioè mi devo lasciare andare. Quindi non aveva la pace dentro questa persona, vuole sperimentarsi adesso in questa leggerezza, ma non aveva la pace dentro di sé. Quindi è come se dicesse, se io trovo la pace dentro di me, cosa che io vedo che non ha avuto questa persona nelle relazioni, almeno posso trovarla anche con te. Quindi in qualche modo ti vuole dimostrare che questa pace l'ha trovata, perché in qualche modo capisce che tu sei una persona che fa un lavoro sempre di bilanciamento, aggiustatura. Vediamo un po' come ti vede, anzi a proposito, e quindi capisce che tu sei molto importante da questo punto di vista. Vediamo un po' come ti vede. Voglio andare proprio più specificatamente a chiedere come ti vede questa persona. Beh, ti vede come una regina di pentacoli, quindi ti vede come una persona, allora ti sogna come la donna del cuore, e ti sogna come la persona che vuole veramente. Ma si fa tutti questi ragionamenti perché ti vede comunque una persona a cui non piacciono tanto i discorsi. Qui abbiamo una persona, alle volte, che parla troppo, nel senso che fa troppi discorsi mentali. Tu vuoi una persona che ti dimostri a livello pratico anche le cose. Quindi sì, mi puoi dire tutte le parole che vuoi, però io voglio delle dimostrazioni tangibili. D'altronde anche tu, secondo me, sei consapevole che se una persona veramente ti ama, in qualche modo, prima o poi, supererà le sue paure, cosa che sta facendo questa persona, supererà i suoi blocchi. Nello stesso tempo, anche tu sei così consapevole che dici, d'altronde, non posso suscitare in lui l'amore se l'amore in lui non nasce. Quindi, secondo me, tu che stai guardando, sei in dubbio se questa persona ti ami veramente o no, se la conosci già. E se invece sei singolo, sei in dubbio un po' di trovare quell'amore giusto. Allora, vediamo ancora cosa pensa di te. beh, pensa che tu, senz'altro, gli hai insegnato dell'umanità, gli hai insegnato ad amare, è come se dicesse, è proprio da te che io imparo cos'è quell'amore vero, è proprio da te con questo meraviglioso asso di coppe, è proprio da te che io imparo dai miei limiti stessi e ho visto che tu mi hai accettato come sono perché tu hai questa capacità mentre io non mi sono sempre accettato, forse mi sono sempre un po' criticato perché in fondo sentivo che che c'era qualcosa che non quadrava, ecco, diciamo che se la raccontava così, però adesso è un po' tutto cambiato perché ha preso coscienza che il suo carattere non non riusciva neanche a vederlo secondo me questo carattere, diciamo che tu gli hai lasciato degli insegnamenti non tanto a parole ma nel tuo comportamento, tu sei sempre stata diciamo più accogliente, questa persona invece è sempre stata appunto dominata dal pensiero pur essendo devo dire anche una persona molto affascinante e non voglio sminuire questa persona voglio semplicemente farvi capire quanto questa persona ha riflettuto in assenza di te o in assenza della partner giusta e si sia reso conto che abbia basato involontariamente o inconsciamente le sue relazioni solo basandosi sulla personalità poi ha incominciato a capire che c'è qualcosa oltre la personalità che c'è l'anima che c'è lo spirito magari sono cose che tu gli hai detto o che qualcuno gli ha detto e che gli ha fatto capire che mancava proprio l'ingrediente principale cioè il cuore perché se andiamo a vedere non è che questa persona sia senza cuore ma secondo me non è abituata a lasciarsi andare all'amore intanto è una persona che ha sempre pensato diciamo o al suo lavoro ai suoi hobby quindi molto presa dalle sue cose è una persona che non ha mai riflettuto a fondo mentre adesso in tua assenza o in tua mancanza perché ancora magari non ti conosce ancora sente proprio che le relazioni devono avere come base anche la spontaneità la gentilezza e non l'impulsività il carattere forte cioè non è che lui pensi che tu non sia forte assolutamente anzi se mai pensa che sei più forte tu perché hai delle doti con questo asso di coppe di amore gentilezza ecco mentre questa persona alle volte può essere stata un po' burbera o essersi lasciata andare a dei moti diciamo di carattere non tanto piacevoli può essere anche una persona molto impulsiva che magari alla prima cosa che una partner gli dice prende se ne va oppure sparisce per un certo periodo tant'è vero che a un certo punto ha visto il suo castello pieno di rovi come fa vedere questa immagine cioè il castello che cosa rappresenta rappresenta la sua relazione però non è che questa persona si deve prendere sempre tutte le colpe sono dei ragionamenti perché come sappiamo le colpe tra virgolette colpe perché sono sempre invece in realtà non esiste la colpa ma esistono le evoluzioni tutto quello che ci accade è per farci aprire gli occhi per farci evolvere però diciamo che questa persona sta facendo i suoi ragionamenti visto che ha così paura di perderti ed è come se fortunatamente guardasse e vedesse come spesso ha reso pesanti le sue relazioni perché mancava quel quid di cuore di calore cosa che invece ha visto in te naturalmente tu secondo me non sei una persona visto che sei uscita appunto come regina di pentacoli che se una persona non si comporta bene sta lì e subisce tu sei una persona che secondo me se qualcuno non si comporta bene reagisci e magari anche tu dici va bene non fai per me chiudo tuo malgrado poi dentro dentro sei come ti vede questa persona ricordiamoci che sei venuta come regina di coppe e lui come re di coppe però c'è tutto un discorso di dinamiche caratteri che non vi hanno mai fatto incontrare o vivere la persona giusta nel modo migliore possibile ecco alle volte ci si creano dei problemi che non ci sono alle volte si proietta della gelosia che non c'è oppure magari una persona davvero non chiama perché non può chiamare e si innesca un meccanismo non mi hai chiamato allora non mi ami bisogna sempre venirsi un pochino incontro senz'altro questa persona sta facendo la sua parte c'è proprio del pentimento allora vediamo se hai intenzione di dirti questo cambiamento che ha fatto che sta facendo visto che sta studiando così tanto per sentirsi accolto o riaccolto da te beh io direi di sì perché a modo suo questa persona vuole costruire con te senz'altro vuole costruire qualcosa però sa benissimo che non può venirti a dire mettiamo su casa perché tu potresti dirgli no i nostri caratteri non vanno bene tu sei una persona impulsiva eccoli il punto dove ha paura di perderti perché dovrei chiudermi non a chiudermi per modo di dire chiudermi in una relazione o in una casa con te questa rappresenta proprio la casa la ricchezza la casa bella ti può anche dare tutte le case belle del mondo ma il suo carattere è quello che ti deve convincere di più tutto sommato quindi secondo me comincerà a farti a dirti cioè questa persona secondo me ti vuole cercare ti vuole fare delle promesse pratiche perché comunque sa anche che tu sei sì una donna di cuore diciamo dentro il cuore ma sei anche una regina di pentacoli quindi sa benissimo che deve essere concreto con te ma oltre alla concretezza io voglio vedere poi il suo comportamento come sarà perché è quello che a te interessa di più quindi stiamo guardando se ti dirà nei particolari che vuole veramente mettere da parte tutti i suoi giochi reattivi diciamo nei tuoi confronti beh ti vede come la regina di coppe allora questa persona di solito siamo sono le donne no siamo noi che diciamo non mi considera però sento che mi ama qui un po' al contrario qui abbiamo una persona che dice anche se tu mi tieni distante io sento che tu sai amare e l'avevamo visto anche con l'asso di coppe prima quindi sei venuta di nuovo come regina di coppe quindi pensa pensa che tu in un certo senso ci metterai quell'amore per cui non che comprenderai i suoi comportamenti lui vuole veramente cambiare perché ha capito che col suo carattere tu più di tanto non l'accetteresti fino in fondo però ti vede anche come la persona che gli deve dare gli deve non dovresti niente nessuno deve niente a nessuno ti vede come la regina di coppe quindi ritiene che tu hai capito cioè non te lo vuole dichiarare proprio in fondo in fondo pensa che tu capisci che questa persona vuole migliorare il suo carattere ma che fondamentalmente ti ama quindi ritiene che facendoti un bel regalo tipo una proposta interessante di matrimonio ritiene che tu capisci che dietro c'è dell'amore però non te lo vuole proprio dire nei minimi particolari stiamo guardando se te lo dirà che ha avuto tutto però ecco questa persona dice se tu mi ami anch'io ti dimostrerò il tuo amore perché qui abbiamo proprio la carta degli amanti quindi in sostanza è come se dicesse tu mi abbraccerai e io ti abbraccerò ci abbracceremo come questi due amanti che si abbracciano quindi in sostanza spera che tu appunto sia d'accordo che tu gli dica di sì a questa proposta proprio perché c'è stato qualcosa che non funzionava tra di voi oppure se sei single è un corteggiatore che spera che tu gli dica di sì forse è stato nascosto per molto tempo questa persona ha fatto passare molto tempo ha fatto passare troppo tempo e tu potresti esserti chiusa sempre questa paura di perderti insomma questa persona però devo dire che vive come era venuto qui più di speranza cioè questa persona dice io vengo ti faccio questo regalo e poi piano piano ti dimostrerò questo amore che dentro c'è perché te lo dirò certo che te lo dirà però si affiderà molto al tuo buon cuore regina di coppe che sei venuta due volte ma senz'altro te lo dimostrerà a modo suo a me dà l'idea che questa persona ce la metterà tutta per cambiare il suo carattere però mi viene da dirti che non sarà così semplice quindi perché è come se lui stesso dicesse è molto difficile cambiare il mio carattere sono abituato ad essere impulsivo e quando mi parte mi parte e quindi è come se si affidasse al tuo buon cuore è come se ti dicesse io cercherò di rendermi conto quando mi parte l'impulsività o quando mi parte la gelosia quando ti faccio arrabbiare cercherò di rendermene conto però non ti assicuro al cento per cento che io sarò completamente diverso da prima l'unica cosa è che nei momenti in cui non ci sarà questo carattere impulsivo io ti darò tutto l'amore che ho dentro in modo che tu ti renda conto che il mio amore è vero quindi non riesce a farti questa promessa ti dice che si è reso conto che il suo carattere può aver rovinato molte cose ma non riesce a farti la promessa di continuità sul suo carattere perché ci sta lavorando ed è molto difficile l'unica cosa che vedo è che ti dimostrerà molto di più il suo amore ma ti dirà anche che è stato difficile dimostrartelo prima il suo amore perché quasi quasi questa persona non lo ametteva a se stesso sempre perché la sua personalità lo sovrastava quindi io qui vedo una persona che ce la sta davvero mettendo tutta allora a questo punto dobbiamo un po' andare a vedere poi nei fatti intanto voglio vedere se tu accetti davvero questa persona così come ti sta dicendo quindi voglio vedere tu quando questa persona ti dirà io ti dimostrerò tutto l'amore che ho dentro ma non ti posso promettere ma d'altronde è anche sincero non ti posso promettere che il mio carattere è completamente cambiato ecco ti posso dire che ho preso coscienza del mio carattere ma non ti posso dire che non avrò più questa impulsività perché fondamentalmente sono geloso fondamentalmente sono un po' possessivo ecco vediamo un po' quindi tu come sarai alle parole e alle dimostrazioni che ti darà questa persona che ti darà come ti dicevo dimostrazioni anche materiali beh tu stai proprio a vedere nel senso che dentro di te tu dirai beh se esagererai col tuo carattere con la tua impulsività io mi fermerò e questo non significa che proprio lo lascerai però diciamo che essendo poi venuta anche tu con un forte carattere come la regina di denari direi che starai un po' a vedere anche le tue reazioni interne perché ci può essere la cosa che ti fa arrabbiare anche a te oppure ci può essere la cosa che ti fa sorridere e lo guardi un po' come un bambino quindi secondo me tu risponderai a questa persona bene io accetto il tuo regalo accetto il tuo amore perché c'è anche il mio di amore senz'altro però anche io non non voglio dirti sì accetto completamente il tuo carattere non te lo voglio dire questo sì perché è come se ti dessi il permesso di continuare a comportarti in un certo modo quindi tu secondo me gli dirai hai avuto paura di perdermi perché questa persona te lo dirà bene puoi perdermi ancora devi farcela devi farcela è come se tu gli dessi un po' un ultimatum io accetto però devi farcela superare il tuo carattere e la tua impulsività perché non è detto che realmente io poi resti anche se io l'amore per te ce l'ho certamente secondo me io dentro ti vedo più sorridente che cioè tu gli dirai queste parole perché tutto sommato ti fa piacere ti farà molto piacere ti darà molta soddisfazione che questa persona ti dica queste cose però è anche vero che tu vedrai proprio che questa persona tutto sommato ce la sta mettendo tutta e quindi ti darà grande soddisfazione quindi tu vedrai questa persona che si darà un sacco da fare rispetto a prima insomma l'unica pecca se vogliamo chiamarla pecca sarà un po' questa impulsività che ha ma tu la puoi reggere molto bene perché qui abbiamo proprio l'immagine un'immagine bellissima di un bosco dove c'è un uccello che sta andando a bere nel fiume quindi nonostante tutto tu ami questa persona amerai questa persona e sentirai che sotto c'è un grande nutrimento quindi tu gli dirai sì queste parole gli dirai lo terrai un po' sulle spine in fondo perché una parte di te si vuole sentire veramente sicura ecco anche tu giustamente dici io voglio costruire sì e sono ben felice soddisfatta di quello che mi stai dicendo però effettivamente non posso più cioè per quanto io sia comprensiva se tu prendi e sparisci per farti un esempio io non so se accetterò di nuovo questa cosa cioè tu se non ti senti bene ti senti in reazione ti senti geloso ti senti possessivo anche in maniera esagerata me ne devi parlare in sostanza tu dirai questa cosa me ne devi parlare e allora se si parla e c'è la comunicazione tutto si affronta però ti devo dire che tutto sommato tu diversamente da prima se lo conosci già o diversamente da prima con le tue altre relazioni se sei single tu poi alla fine te lo vivrai benissimo perché guarda che bella temperanza qui disegnata che abbiamo quindi qui abbiamo una persona che cucina che che è la regina della casa che sì la vedi un po' come atteggiamento che è molto calda cioè quindi disponibile ma nello stesso tempo rimane ferma tu rimani ferma su questo suo carattere che abbiamo visto ma dentro sarai molto molto contenta quindi a questo punto io guardo un po' bene tutte queste cose che secondo me ti dirà e tu gli dirai questa vostra conversazione che abbiamo visto andiamo un po' a vedere come funzionerà fra di voi vediamo allora prendiamo queste allora come funzionerà fra di voi visto i vostri discorsi o no funzionerà perché tutte e due avete le vostre ragioni che però devono partire dal cuore diciamo che i vostri cuori io li vedo molto uniti visto che siete venuti appunto in diversi momenti con anche la carta dell'amore quindi io tutto sommato l'amore profondo tra di voi c'è siete tutte e due un po' forse un po' rigidi uno verso l'altro e dovete diventare più morbidi è un insegnamento anche il vostro incontro vediamo se funzionerà beh diciamo che all'inizio nonostante l'amore ci sia magari passerete delle giornate le prime giornate meravigliose poi quando si tratta di incominciare a parlare di convivenza quindi magari scegliere la casa l'arredamento le cose perché qui abbiamo proprio un bellissimo quattro di pentacoli forse avete dei gusti diversi forse lì si vedrà che combatterete per lasciar fluire questo amore che avrete uno per l'altro ma dei caratteri molto pungenti quindi senz'altro ci saranno dei pericoli non posso dire di no perché ci sarà attrazione passione ci saranno dei momenti bellissimi ma ci si ripresenteranno i momenti diciamo che non avete superato in passato se vi conoscete oppure se siete singoli incontrerete un partner e le cose che non avete capito nell'ultima relazione o nelle ultime relazioni che avete avuto in qualche modo si presenteranno il diavolo arriva anche proprio a dirti c'è un pericolo ma tu sei in grado di superarlo c'è una tentazione ma tu sei in grado di superarlo quindi secondo me ci saranno sì devo dire i momenti difficili perché le carte lo dicono chiaramente ma sta molto a voi due in questo caso quindi non sta più a questa persona questa persona arriva e ti dice sì ammetto di non avere di non essermi comportato bene e così via tu dirai va bene mettiamoci alla prova vediamo cosa succede quindi l'amore fluirà tu sarai soddisfatta perché tu avevi proprio su di te l'energia della temperanza però sarei messa duramente alla prova tutte e due sarete messi alla prova vi metterete alla prova quindi dovrete superare la prova a questo punto mi viene spontaneo chiedere se supererete le prove che secondo me proprio l'esistenza o l'universo in qualche modo vi metterà davanti ma perché se l'amore è vero e profondo e vale la pena di vivere è normale che a un certo punto ci siano delle prove devono diventare queste prove come un radicamento della vostra storia devono diventare come la colonna del vostro tempio allora vediamo e vedete che la luna quindi qui sono delle prove non necessariamente caratteriali ma è proprio qualcosa nel vostro inconscio come ci fossero delle ferite nel vostro inconscio che se qualcuno dei due tocca quella dell'altro può scatenare magari una reazione quindi questa persona secondo me avrà sempre la tentazione un po' di andarsene se vivete insieme può essere una persona che si chiude in un motismo per farvi un esempio oppure voi da dolcissime che siete con questa persona magari diventate super esigenti e anche un po' rigide quindi sì mi dicono ci saranno queste prove ma arriveranno anche se voi cercate di non metterle in pratica l'inconscio è sempre un po' più forte quindi cercherà di mettervi alla prova però vediamo poi che arriva questo bellissimo prato con l'altalena che parla di gioia di apertura quindi secondo me veramente respirare prima di parlare contare fino a dieci prima di parlare e vedrete che ci riuscirete riuscirete a superare queste prove ce la farete secondo me e poi secondo me sarà molto più bello di quello che voi pensate naturalmente secondo me ci sono delle prove un po' più leggere in modo che voi possiate rimanere insieme comunque perché ripeto l'amore c'è si vede dall'inizio di questa stesa quindi questa persona secondo me sei veramente l'unica persona che vuole non è che si guardi intorno assolutamente è proprio una cosa di voi due di superare le vostre prove e secondo me sì ce la farete ce la farete perché diventeranno sempre più piccole queste prove qui ti suggeriscono quando ti trovi in un momento di difficoltà cerca di guardare un po' da lontano come se guardassi un orizzonte come se guardassi un film come se voi due foste due puntini cerca di staccarti da tutto quello che è diciamo successo o che succederà che ti farà magari arrabbiare cerca di vivere molto il qui e ora di sentirti magari anche tutt'uno con la vita per esempio no di cercare di sostituire gli schemi di pensiero negativi con degli schemi di pensiero positivi di sostituirli proprio come una strada che si mette sopra un'altra quindi quando ti arrivano i pensieri che dici ecco adesso l'ha fatto di nuovo così oppure mi ritrovo di nuovo in questa situazione se sei single come con l'ultimo partner ecco fermati un attimo e respiro e di ok sostituiamo questo pensiero con un pensiero positivo per esempio sparita di nuovo questa persona no non è sparita gli sarà sicuramente successo qualcosa di importante vedrai che arriva e me lo dirà questo solo per farvi un esempio carissimi e carissime quindi io direi che sono molto chiare le carte ne prendo ancora una di nuovo tu mi vieni regina di pentacoli quindi sei proprio una donna un po' tosta diciamo e però è un grande cuore come abbiamo visto prima quindi perché a un certo punto io ho chiesto vediamo ancora una carta perché volevo un po' vedere come dipendeva da come dipendeva la cosa diciamo che tu sei quella che ha più controllo e quindi sei quella che può tenere in piedi la relazione naturalmente perché l'amore come abbiamo visto c'è ecco non si può tenere in piedi mentalmente una relazione ma con l'amore quindi vediamo che cosa vi dicono gli starseed che consiglio vi danno andiamo un po' nelle stelle vediamo un po' che cosa ci dicono gli amici delle stelle apriti all'amore perché se no vedi che come sono sincroniche ti dice apriti all'amore perché rischiate di nuovo conflitti quindi questo consiglio lo danno a te che guardi naturalmente no perché anche tu questa persona se fa qualcosa che non ti aggrada potresti chiuderti di nuovo no quindi ricordati di aprirti sempre all'amore quindi respira e apriti all'amore prendiamone ancora una ricordati che tu fai parte di una famiglia di anime come dire sei molto più sostenuta di quello che credi quindi quando ti senti in difficoltà sappi che tu fai parte di una famiglia stellare quindi cerca sostegno cerca sostegno nell'universo oppure proprio cerca sostegno nei tuoi fratelli stellari della luce e come se ti dicessero nei momenti di difficoltà per non avere di nuovo un'altra separazione con questa relazione chiedi aiuto a noi che noi ti aiuteremo quindi carissimi e carissime io vi ringrazio come sempre dell'ascolto un grande namastè a tutti e un abbraccio ciao ciao